I Templi di Pestum, protagonisti della prima puntata della serie Fantasy The Angel's Hunter con Primo Ciacchi il 23 febbraio. L'antica Poseidonia è stata scelta dal serenitano Giuseppe Motta come teatro del set di uno scenario futuristico, quale culla del mito che sopravvive al tempo. Oltre a Capaccio Pestum si girerà anche in Agropoli e a Londra. The Angel's Hunter sarà presentato alle più prestigiose case di distribuzione mondiali di serie TV. Il 22 febbraio alle ore 11 si trarà la conferenza stampa di presentazione presso la Sala Cella del Museo Archeologico Nazionale del Parco Archeologico di Pestum.